Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto in discussione oggi è indicativo di come la maggioranza, invece di affrontare problemi complessi come la gestione di flussi migratori, insista nel proseguire la sua campagna elettorale, traducendo slogan come fermiamo i migranti in leggi confuse, come questo decreto legge che viola i diritti umani e il diritto internazionale, tant'è vero che il Consiglio d'Europa ha chiesto al Governo di ritirarlo e di rivederlo, tra l'altro con una missiva che probabilmente è arrivata già un mese fa, quindi noi non abbiamo avuto nemmeno notizie in Commissione. Decreto che rischia di provocare situazioni di pericolo sia per i migranti che necessitano di soccorso e sia per chi i soccorsi li attua, e questa è anche una cosa grave. La maggioranza destrorsa sta attuando la sua solita tecnica politica, trovare un nemico a cui addossare la colpa dei problemi del nostro Paese in modo da non doverli affrontare nel merito. Cari colleghi di maggioranza, potete continuare la vostra rubrica, il nemico del mese. Il primo mese dei vostri 100 giorni il nemico era il percettore di reddito, che per voi ha creato il lavoro nero e la disoccupazione. Il secondo mese hanno vinto i benzinai, che secondo voi hanno aumentato il prezzo della benzina. E il terzo mese, vincono, si fa per dire le ONG, che per voi sono i taxi del mare e riempiono l'Italia di migranti. Alle ONG avete dedicato questo assurdo decreto legge. Diciamolo in maniera semplice, questo decreto legge vuole impedire il soccorso in mare delle sole navi ONG. Navi che portano in salvo circa il 10% dei migranti totali salvati nel Mediterraneo. Il restante 90% viene salvato dalla nostra guardia costiera, capitene di Porto, guardia di finanza e altri. E approfitto per ringraziare chiunque salvi delle vite umane nel Mediterraneo, comprese chiaramente le ONG. A me piace scherzare e se questo decreto non mettesse in pericolo le vite dei migranti sarebbe facile fare ironia. Ma il decreto mette in pericolo uomini, donne e bambini che rischiano la vita in mare per raggiungere le nostre coste. Ed è ignobile fare un decreto che complica il soccorso in mare. I migranti devono essere soccorsi senza indugi. Sembra assurdo dover specificare che il soccorso in mare è un obbligo giuridico stabilito dal diritto internazionale, dal cui rispetto nessuna legge italiana può prescindere. Lo dice anche l'articolo 117 della Costituzione. Per legge non si può e non si deve criminalizzare e disincentivare i soccorsi in mare. Quindi è facile comprendere l'assurdità di questo decreto. Facciamo alcuni esempi sulle contraddizioni di questo decreto. La prima che mi viene in mente e che è stata anche molto dibattuta in commissione è l'introduzione del termine porto di sbarco. Ci siamo inventati nuovi termini per confondere. Il termine porto di sbarco sostituisce il termine porto sicuro. Il porto di sbarco non è automaticamente un porto sicuro. L'hanno detto tutti, gente molto più preparata di me su questo argomento, gente che abbiamo sentito in audizione. Il porto sicuro, citato in tutte le convenzioni europee e regolamenti internazionali, ha una precisa definizione che riprendo scientificamente. Il porto sicuro è il luogo dove le operazioni di soccorso si possono definire compiute. Quindi non è solo lo sbarco, ma anche l'accoglienza, l'identificazione, le cure mediche e altro. Quindi è chiaro, cari colleghi, che questo dover interpretare il termine ogni volta che le navi ONG effettuano un salvataggio in mare complica il loro lavoro, ma complica anche l'accoglienza nelle città che vengono indicati come porti di sbarco e che devono attrezzarsi per l'accoglienza a terra in tempi brevissimi. In commissione è stata citata la città di La Spezia, che è diventato un porto di sbarco dall'oggi al domani e che ha dovuto attrezzarsi velocemente per poter gestire l'accoglienza di migranti. Ho citato la città di La Spezia proprio perché è governata dalla destra. Quindi questo decreto complica la vita a tutte le amministrazioni locali, destra, sinistra e altre. In condizioni di emergenza non sono accettabili tempi lunghi per l'assegnazione di un porto sicuro. In caso di pericolo la risposta deve essere immediata. La vita umana viene prima di tutto. Ma l'invenzione più pericolosa e assurda aver messo per legge che si deve fare un solo salvataggio alla volta. Cosa vuol dire un solo salvataggio alla volta? Proviamo a ribaltare quest'ultima frase per una situazione analoga. Magari i nostri cari sono in difficoltà e dobbiamo scegliere quale salvare perché possiamo fare un solo salvataggio alla volta. Cioè avete messo in una legge fare un solo salvataggio alla volta. È veramente strano. Per fortuna nessuno applicherà questa parte del decreto perché significerebbe avere più morti in mare di quelli che già purtroppo ci sono. Impedire il salvataggio plurimo contrasta con tutte le leggi che regolano l'obbligo di salvataggio in mare. Io non voglio pensare che per questa maggioranza il problema delle vite umane a rischio nel Mediterraneo sia un problema minore solo perché trattasi di migranti. Ma è chiaro che il modo in cui state affrontando il problema dei flussi vi sia sfuggito di mano. Parliamo anche del divieto di trasbordo che in alcuni casi potrebbe mettere in pericolo anche la vita dei soccorritori stessi. È chiaro che se ho a bordo troppi nafraghi e vicino c'è una grossa nave, il loro trasferimento è doveroso per la sicurezza loro e dei soccorritori stessi. Ripeto, la vita umana viene prima di tutto. Ma voi veramente pensate che questa legge fermerà i migranti? È già stato detto. Guerre, persecuzione, fame, povertà, cambiamenti climatici costringono milioni di persone a spostarsi in cerca di condizioni di vita migliore. Chi scappa da queste condizioni affronterà qualsiasi mare, valicherà qualsiasi muro e non si fermerà di fronte a niente. Per questo i blocchi navari, l'acquisura dei porti o l'omissione di soccorso imposta per legge non sono le soluzioni. Sono solo slogan e trovate propagandistiche sulla pelle di poveri e disperati che non risolvono il problema. Il fenomeno deve essere gestito con intelligenza e visione. È un fenomeno complesso, intervenendo a monte per rimuovere le cause politiche e socio-economiche dell'immigrazione e per combattere i trafficanti anche nei paesi di transito. E bisogna intervenire anche a valle. Bisogna gestire il fenomeno nell'unico modo possibile, cioè coinvolgendo l'Europa nel controllo delle sue frontiere marittime e soprattutto nella gestione dell'accoglienza dei migranti. Presidente, noi l'abbiamo detto tutti, di qualsiasi forza politica, anche quelle che attualmente sono al governo. Il tema dell'immigrazione deve essere affrontato a livello europeo e con la collaborazione di tutti gli Stati membri. È evidente però quanto sia strumentale e contraddittore la posizione di questo governo, che da un lato chiede la collaborazione dell'Europa, accusandole di lasciare sola l'Italia nella gestione dei flussi migratori, e dall'altro, sapendo benissimo che chi rema contro l'adozione di politiche migratorie solidarie sono proprio i paesi europei governati dalla destra sovraniste, questo governo strizza l'occhio a questi paesi. I paesi di Visigar, oppure abbiamo anche la Svezia, attualmente la presidenza dell'Unione Europea, quella che ha un governo sostenuto da nazionalisti, di Jimmy Hackeson, uno Stato che punta un po' come fa la nostra Presidente Moloni a risolvere il problema esclusivamente tramite accordi con i paesi di origine, quegli stessi paesi da cui i migranti stanno scappando per chiedere asilo politico. Una sorde d'accordo sui numeri e non sulle persone. Il superamento del regolamento di Dublino, quello che obbliga lo Stato di prima proda a gestire da solo l'accoglienza, deve essere uno dei primi scogli da superare. Ricordo che grazie al Presidente Conte, con una sua lettera indirizzata a tutti i paesi europei, il principio del regolamento di Dublino fu di fatto superato per la prima volta con la ridistribuzione di centinaia di migranti in vari paesi europei, tra cui Francia e Malta. Quindi c'è chi parla e chi ha fatto. Il Presidente Conte ottenne di ridistribuire centinaia di migranti semplicemente inviando una lettera a tutti i paesi europei. La strada da seguire deve essere quella di coinvolgere e responsabilizzare tutti i paesi a livello europeo con accordi strutturali e vincolanti e non temporanei e volontari. Quindi accordi strutturali e vincolanti. Vincolanti perché altrimenti si verificano cose come quelle accadute nel 2022, in cui era stato siglato un accordo temporaneo e volontario con la previsione di ricollocare 8.000 migranti entro fine anno, mentre a fine anno ne sono stati ricollocati appena poco più di un centinaio. In Commissione si è parlato anche di nuovi accordi di questo governo con la Libia. È dal 2021 che noi, in Parlamento, ci schieriamo per interrompere la collaborazione con la Guardia Costiera Libica, con l'intenzione di concentrarsi sul coinvolgimento dell'Unione Europea. E ora la Presidente, nell'ennesima prova di continuità con il governo Draghi, va in Libia promettendo nuove moto vedette a sostegno dei guardi a coste libici, che molte volte sono anche in combutta con i trafficanti. La stessa Meloni, che in campagna elettorale proponeva il blocco navale, assurdo e impraticabile. È sempre lei. L'Italia è la frontiera marittima dell'Europa e per questo deve essere l'Unione Europea a farsi carico anche del pattugliamento del Mediterraneo e contrastare il traffico di esseri umani. È necessario che anche l'Unione Europea sigli con i Paesi d'origine degli accordi che consentono il rimpatrio automatico e immediato dei loro cittadini, non aventi diritto di protezione umanitaria o non rientranti nelle quote di lavoro. Deve essere l'Unione Europea a coordinare l'operazione di soccorso nel pieno rispetto del diritto internazionale delle leggi nazionali. L'Italia, siamo tutti d'accordo, non deve essere lasciata sola, ma non è certo sanzionando chi soccorre i naufraghi e lasciando annegare donne e bambini innocenti che convinceremo l'Europa e gli amici della Meloni e di Salvini a fare quello che va fatto. La vita umana viene prima di tutto. Grazie Presidente.